...che ne dici di stupidarti. Allora però il primo primo la bicicletta offerta da motocicli in battaglia è il numero... provate in libera. 67! Canto? 67! E' il numero in meno? No! No! 19! Eh non ce la fai! Non puoi andare! Non ce la fai! Dov'è il tuo papà? Vieni papà! Vieni papà! Vai! Al Presidente! Al Presidente! Al Presidente! Al Presidente! Bravici! Al Presidente! Al Presidente! A Cesare! A Rumani! Di due! Di due! Bravo! Mister! Mister! Mi due! Tre date! L'anno prossimo la strada la voglio vedere venire a fare con questa eh! Mi raccomando! Grazie a tutti! All'anno prossimo! Grazie! Bravo! Grazie! All'anno prossimo! Grazie al primo cittadino! A che ora c'è la cena? Primo cittadino! A che ora? Sette e mezzo! Ma cosa fai? La pastina? La tempestina! La tempestina! Sta bene! Bravo! Grazie a tutti! All'anno prossimo! Ciao cara! Ci vediamo! Ciao cara! Ciao! 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 Ciao cara! Ciao sen! Allora no no! Ciao gente! Ciao gente! Grazie. 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 Maia casa piękna, compagna casa. No. Grazie. 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 Grazie.